Coltivazione biologica, lavorazioni ecocompatibili, miglioramenti della produzione, dello stoccaggio e della spedizione sono i fattori di sviluppo della cooperativa Apibosman. L'introduzione di prodotti biologici, la riduzione di pesticidi e l'uso di fertilizzanti organici ha fatto sì che il nostro territorio recuperasse la sua naturale fertilità, ottenendo come conseguenza prodotti sani che ci permettono di garantire la qualità sul mercato internazionale. Come agricoltori abbiamo la possibilità di curare l'ambiente in modo che le nostre famiglie crescano. Grazie al premio Fairtrade abbiamo potuto migliorare il sistema di produzione con l'installazione di un impianto di trasporto, migliorando la qualità del lavoro dei contadini e la qualità del prodotto di esportazione. In questo modo noi agricoltori non abbandoniamo più il territorio per migrare nelle grandi città, ma rimaniamo nei luoghi dove siamo nati, perché vediamo che le condizioni di vita stanno migliorando. Attraverso Fairtrade la cooperativa ha messo in relazione tra loro i soci produttori e questo ci permette, con i corsi di formazione e di aggiornamento, di imparare cose nuove sul nostro lavoro. Anche la scuola ha avuto benefici, come l'acquisto dei banchi e la realizzazione di un'aula informatica. Inoltre ha realizzato una scuola di calcio, motivando molti ragazzi ad abbandonare le strade e a tornare a scuola. Inoltre ha realizzato una scuola di calcio, motivando molti ragazzi ad abbandonare le strade e a tornare a scuola. Il controllo di qualità consiste nel verificare che le banane siano raccolte verdi, per evitare che maturino durante il trasporto. Per migliorare il processo di conservazione, le banane sono lavate e immersi in una vasca contenente acqua e limone, in modo da sedimentare il lattice che esce dal gambo, per evitare che ricopra la frutta. L'etichettatura che certifica il prodotto Fair Trade avviene su due frutti, per ogni mano di banane, destinata al mercato internazionale. Segue la cicatrizzazione del gambo, con una soluzione concentrata di acqua e limone, che impedisce l'ingresso di sostanze inquinanti e la perfetta conservazione della frutta. Il commercio equo ha migliorato il rapporto tra produttore e aziende della grande distribuzione, garantendo maggior tutela sia verso i produttori che verso i consumatori. Grazie per la visione!